Ciao ragazzi, buongiorno a tutti voi Allora, parliamo ovviamente come al solito di calciomercato La notizia del giorno riguarda Screener che ha fatto le visite mediche Quindi sarà sicuramente un nuovo giocatore dell'Inter Io su Screener già ho detto alcune cose, anzi ho detto un bel po' di cose Confermo quello che ho detto Mi sono anche documentato ragazzi, perché mi continuo a documentare sul giocatore Vedo video, come ho già detto un dato molto importante su Screener 91% di passaggi riusciti e non sono tic toc, tocchi laterali, passaggi facili in orizzontale Ma vedendo i video di Screener mi sono reso conto che un giocatore, un difensore Che da dietro è molto bravo ad impostare Cambia spesso il gioco sia di destro sia di sinistro Quindi è un difensore che rischia anche il passaggio in verticale La fase di impostazione nostra ragazzi è qualcosa di imbarazzante Tra i piedi di Miranda, Medel che magari adesso andrà via Si sta parlando pure del Boca Junior in queste ore Murillo stesso, eccetera eccetera Inutile dire i nomi di tutti i cessi in fase di impostazione che abbiamo Perché davvero tecnicamente non ce n'è uno con i piedi buoni Screener sicuramente ha degli ottimi piedi in fase di impostazione Parlano i dati, 91% dei passaggi riusciti parlano quelli Non ve lo sto dicendo io Comunque ragazzi, la notizia del giorno, anche un po' a sorpresa Riguarda il procuratore di Izzo Che per fortuna non ci sta propinando il suo assistito Anche se nei giorni scorsi si parlava di Izzo in orbita Inter Ma lasciamo perdere, per fortuna non parlava di lui oggi Ma ha detto una cosa interessante su Manolas Ha detto che a quanto risulta lui l'Inter tornerà su Manolas O già è su Manolas Io ragazzi onestamente Lui comunque ha trattato con l'Inter nei giorni scorsi Io se collego qualcosa Posso collegare che magari stava trattando Izzo con l'Inter E l'Inter gli ha detto che tornava su Manolas Un'altra cosa ragazzi Proprio nel video di ieri ho risposto uno di voi Mi sfugge il nome onestamente Scusatemi ragazzi Mi aveva chiesto Col fatto che magari adesso Manolas non andava più allo Zenit Se si poteva riaprire Rudiger in orbita Inter Io gli ho risposto dicendo proprio E magari si riapre proprio Manolas Proprio perché avevo questo sentore strano Perché comunque ragazzi Un trasferimento già definito Che salta così all'improvviso Mi puzza un po' Vedendo l'Inter poi in giro Non è che ci sono tutti questi centrali Non ci sono difensori centrali in giro prendibili Rudiger che era il preferito di Spalletti e Sabatini La Roma non te lo dà A meno è quello che filtra Ha detto anche Monchi Il direttore della Roma Quindi secondo me Ha capito l'Inter che magari conviene ritornare su Manolas Questo è un mio sentore pure Diciamo che Manolas a me garberebbe tantissimo Tantissimo In coppia con Skriniar ancora di più Perché l'ho detto Skriniar è forte in fase di impostazione È alto quindi anche nel gioco aereo si fa rispettare Invece Manolas è uno più Più rapido Che può coprire anche gli spazi Quindi è una coppia che si amalgamerebbe bene ragazzi Manolas in fase di impostazione non è così bravo Invece Skriniar lo è E Skriniar può completare Proprio si possono completare a vicenda ragazzi Questa è una mia sensazione Io non vi sto dando una notizia La notizia del giorno È che appunto il procuratore di Izzo Ha rilanciato Manolas in orbita Inter È stato un po' uno spoiler Diciamo così Non so se c'è da fidarsi La sensazione che ho io Visto che anche Spalletti ha detto Che l'Inter prenderà un altro centrale E che si possa riaprire davvero Manolas all'Inter Non vi sto dicendo che l'Inter prenderà Manolas Al 100% Però avevo questa sensazione ieri La trovate nel video di ieri Appunto nei commenti sotto al video Dove ho risposto uno di voi Parlando di Manolas in orbita Inter Conferma oggi con le parole del procuratore di Izzo Adesso vedremo ragazzi Onestamente credo che capiremo tutto Già nei prossimi giorni Perché siamo alle porte di luglio E il vento già sta cambiando un po' Già si sente Un'aria diversa intorno all'Inter Fino a una settimana fa c'era davvero Uno scetticismo totale Invece adesso col fatto che Sta arrivando luglio Sta cambiando anche un po' il vento Questo mi lascia un po' ottimista ragazzi Cari miei Io vi lascio con questa mia Diciamo provocazione Fatemi sapere magari nei commenti sotto al video Se ci credete al fatto che si possa riaprire La pista Manolas in orbita Inter Un saluto a tutti amici Sempre amala Ciao ragazzi Grazie a tutti